Cittadini in difficoltà economica incapaci di pagare servizi indispensabili come luce, gas o peggio ancora il proprio sostentamento alimentare. Il sindaco di Giulianova, rieletto e in pieno mandato, decide di intervenire a favore dei più svantaggiati e così si taglia l'indennità insieme alla sua giunta. In sei mesi il fondo di solidarietà ha totalizzato 57 mila euro e oggi sono a disposizione i soldi da distribuire a oltre 100 famiglie. Questo era un impegno che io avevo assunto, c'è stato il dimezzamento delle indennità del sindaco, degli assessori, del presidente del consiglio che sono confluiti, queste risorse sono confluite in un fondo di solidarietà. In questi giorni è scaduto il primo bando semestrale a disposizione delle famiglie con un reddito più basso che ha intercettato 147 domande di famiglie che chiedono di attingere da questo fondo. Nei prossimi giorni noi consegneremo a ciascuna di queste famiglie 300 euro per alleviare le loro spese. Ci sono famiglie, anziani, anche giovani che non possono pagare le bollette del metano, dell'Enel e allora quando c'è questa necessità attingo da questo fondo. Una vera rarità quella del taglio delle indennità dei politici, ma Mastro Mauro non si accontenta e alza il tiro, lancia un appello ai suoi colleghi della regione, si rivolge persino al presidente D'Alfonso e chiede di istituire un fondo regionale di solidarietà per tutti i cittadini abruzzesi che vivono in condizioni di grave precarietà. Io rilancio da questa emittente la proposta di costituire un fondo di solidarietà regionale. Io chiedo ai 31 consiglieri regionali e ai 14 parlamentari eletti nella regione Abruzzo, non dico di dimezzarsi come me, come i miei assessori dell'indennità, ma un 10% delle loro indennità potrebbero costituire un fondo di solidarietà regionale di più di un milione di euro per fare dei progetti nel sociale. Penso che sia una buona idea e sono convinto che i consiglieri regionali e i parlamentari raccoglieranno questo invito. Buon Natale.